Luigi Pirandello, vita e opere Luigi Pirandello nasce il 28 giugno 1867 nei pressi di Agrigento da una ricca famiglia borghese. Studia lettere all'Università di Palermo e a Roma e si laurea a Bonn, in Germania, nel 1891. Intanto inizia a dedicarsi all'attività letteraria e pubblica, a spese del padre, due raccolte di poesie. Nel 1892 si stabilisce a Roma, dove frequenta gli ambienti culturali e stringe amicizia con alcuni celebri letterati, tra cui lo scrittore Luigi Capuana. Stimolato da queste nuove esperienze, Pirandello compone il suo primo testo per il teatro intitolato L'Epilogo e il suo primo romanzo, L'Esclusa. Nel 1894 lo scrittore sposa una ricca donna siciliana, Maria Antonietta Portulano, dalla quale avrà tre figli. Pochi anni più tardi ottiene la Cattedra di Lingua Italiana presso l'Istituto Superiore di Magistero di Roma, e comincia a collaborare con varie riviste letterarie. Nel 1903, un allagamento costringe alla chiusura alla miniera di Zolfo del padre, riducendo sul lastrico la famiglia. Questa vicenda ha conseguenze drammatiche nella vita dello scrittore, perché sua moglie inizia a soffrire di gravi disturbi psichici. Il passaggio da un tenore di vita borghese a una condizione sociale più disagiata si ripercuote in modo profondo anche sulla poetica di Pirandello, fornendogli lo spunto per rappresentare nelle sue opere, e sulla scena teatrale, il grigiore soffocante della vita piccolo borghese. Per lo scrittore, ogni uomo è costretto a indossare una maschera e a recitare una parte per poter vivere con gli altri. Di conseguenza, la società e la famiglia si trasformano in una trappola, da cui l'individuo può liberarsi solo grazie all'immaginazione e alla follia. Nonostante il suo contegno nelle occasioni pubbliche sia contrassegnato da un rigoroso perbenismo esteriore, Pirandello è in fondo un anarchico, una ribelle insofferente ai meccanismi sociali, contro cui scaglia nelle sue opere una critica feroce e impietosa. Per compensare la perdita delle rendite provenienti dalle miniere, lo scrittore intensifica la sua attività letteraria, componendo un gran numero di novelle, alcuni romanzi e svariati testi per il teatro e per il cinema. Nella produzione novellistica dello scrittore, si riflettono con grande efficacia il suo pessimismo e il suo relativismo conoscitivo, che nascono da una lucida consapevolezza del carattere molteplice contraddittorio della realtà. Nel 1904 Pirandello ottiene un discreto successo con il romanzo intitolato Il fumatia Pascal, che narra la storia di un piccolo borghese che a causa di un equivoco viene ritenuto morto dalla sua famiglia e approfitta di questa situazione per ricostruirsi una nuova vita, ma alla fine resta nuovamente intrappolato nei meccanismi mortificanti della società. La mia bislacca avventura mi aveva risollevato nella stima di tutti. Andrei ad abitare con mia zia scolastica e il fatto che ogni tanto mi recassi al cimitero a rendere omaggio alla mia tomba era considerato da tutti lo scongiuro di un superstizioso burlone. Al centro dell'opera si riconosce la critica al concetto di identità personale, che secondo Pirandello è del tutto illusorio, perché la coscienza dell'uomo è costituita da una variare indistinto di stati psicologici, in continua trasformazione. Inoltre nella vicenda di Mattia Pascal, più volte sconvolta dal gioco paradossale del caso, tragico e comico risultano indissolubilmente congiunti, secondo i principi di quell'arte umoristica che costituisce il fondamento della poetica pirandelliana e che sarà codificata nel 1908 nel saggio intitolato appunto L'umorismo. A partire dal 1910 Pirandello si dedica con maggiore intensità all'attività di commediografo e fa rappresentare nei più celebri teatri italiani una serie di drammi fortemente innovativi, Il berretto a sonagli, composto nel 1916, Così è, se vi pare, e Il piacere dell'onestà, usciti nel 1917, Il gioco delle parti del 1918 e Sei personaggi in cerca d'autore del 1921. Questi testi abbattono i principali capisaldi del dramma borghese naturalistico, cioè la coerenza psicologica dei personaggi e la verosimiglianza degli eventi rappresentati. Pirandello porta infatti sulla scena personaggi mutevoli e contraddittori, che si trovano ad affrontare situazioni inverosimili e assurde. A partire dal 1922 la sua fama di drammaturgo si diffonde a livello internazionale. Questo strepitoso successo lo induce a lasciare la cattedra universitaria, per seguire personalmente l'allestimento scenico delle proprie opere, che cominciano a essere rappresentate nei più celebri teatri del mondo. Nel 1924 si iscrive al partito fascista, mantenendo però un atteggiamento ambiguo e distaccato nei confronti del regime di Mussolini, e l'anno successivo fonda la Compagnia del Teatro d'Arte di Roma. In questo periodo lo scrittore si dedica anche alla stesura del suo ultimo romanzo, Uno, Nessuno e Centomila, uscito nel 1926. Tre anni dopo, il governo gli offre la prestigiosa nomina di Accademico d'Italia, e nel 1934 viene insignito del Premio Nobel per la letteratura. Pirandello continua intanto a scrivere alcuni testi teatrali dall'intenso valore simbolico. Nel novembre 1936 si ammala di polmonite mentre assiste alle riprese a Cinecittà di un film attratto dal romanzo Il fumati a Pascal, e il 10 dicembre muore nella sua casa di Roma.